Quali sono gli spazi di manovra su cui bisognerebbe concentrarsi allora? Bisognerebbe saperlo. Guarda, io sono una persona pacifica, adesso sto facendo il referendum, che è una cosa proprio tranquilla, sperando che questo comporti uno shock sistemico, perché se questi signori si dovessero rendere conto che un paio di milioni di persone vanno a firmare per la raccolta delle firme e che la maggior parte, la maggioranza degli italiani di questa storia di mandare le armi sugli scenari di guerra e di tagliare la sanità per il complesso militare industriale non lo sopportano, magari potrebbe nascere in una piccola semiferiferia marginale della nostra Europa qualcosa che rompa questo monolite del potere oligarchico che soffoca tutti quanti che vive e che vive del senso di impotenza generale delle persone, perché su qualunque cosa ti dicono eh ma cosa serve? Eh ma ne abbiamo già fatti tanti, eh ma allora bisogna fare questo, eh ma ci vuole ben altro, no? Cioè nasce questa narrazione per cui qualsiasi cosa tu faccia non serve a niente, ma perché? Perché c'è il fetticismo dei fini. Io sono convinto che noi dobbiamo elaborare una politica dei mezzi. A me interessa il processo. A me interessa il processo. Io voglio fare politica, star bene quando faccio politica, fare in modo convinto, facendo più male possibile al potere cose che posso fare mentre le sto facendo. Non mi interessa, non lo so se poi dopo, fra due anni, avremo fatto il quorum, non l'avremo fatto, che cosa succederà, se sarà finita la... Non mi importa. Mi importa che le persone alzino il fondoschiena dal divano, si diano da fare, lavorino insieme per costruire una soggettivizzazione generale differente, affrontino i problemi e capiscano che se tu non ti occupi di politica, è la politica che si occupa di te. E se si occupa di te non se ne occupa perché ti vuole bene, se ne occupa per un'altra ragione. Ugo Mattei. Guarda, era il 2011 e in realtà, quando abbiamo votato, in realtà il processo è incominciato prima, è incominciato un po' a Genova, nel senso che a Genova nel 2001 c'erano tanti, nel forum come ricordate, quelli di voi che erano stati un po' coinvolti in quella storia lì, c'erano tanti gruppi di lavoro, e in acqua all'epoca il forum dell'acqua. Perché c'era stata a Cochabamba nel 2000 la famosa vittoria contro la Beshel, che aveva privatizzato l'acqua, c'erano state delle rivolte importantissime. Perché? Perché la Bolivia aveva, ve lo ricorderete, aveva sostanzialmente chiamato una multinazionale californiana per gestire il servizio idrico e questi avevano aumentato i prezzi dell'acqua in un modo pazzesco, la gente non poteva più pagare perché aveva, era gente che aveva due dollari e mezzo al giorno e c'aveva tipo un terzo del proprio stipendio avrebbe potuto andare per l'acqua, allora avevano messo dei barili, delle specie di vasche per raccogliere l'acqua. Questi fanno causa, la compagnia fa causa e dice che questi non potevano neanche prendersi l'acqua piovana, ok? Per cui neanche il dono di Dio potevi ricevere, non so come dire, ok? E sulla base di questo ci erano state delle rivolte popolari terribili, c'era stato anche un ragazzino ammazzato e varie cose del genere, e alla fine quella vittoria lì popolare fa sì che questo presidente che avevano all'epoca, che si chiamava Sanchez de losada, detto il gringo, abbandona il paese scappando proprio in maniera rocambolesca e di lì poi viene fuori Morales, tutto quel pezzo di storia diciamo anche un po' del buen vivir, indigena eccetera eccetera. Quindi c'era stato quel pezzo di Sud America, un po' romanticizzato ma c'era stato. Nasce lì il forum dell'acqua e in quel momento, in quegli anni lì, sempre dal 2001 al 2005, un gruppo di giuristi, fra cui il sottoscritto che aveva un po' iniziato quel cammino, c'era Stefano Rodotà, ce ne erano vari altri, iniziamo a lavorare sulle privatizzazioni che stavano andando a palla, nel senso che noi avevamo i governi tecnici, avevano privatizzato 150 miliardi di euro malcontati tra Ciampi, Amato e la prima parte di Prodi e quindi c'erano state queste privatizzazioni terribili in Italia e si incomincia in un clima per cui che era, non dico come quello, come il trattamento ricevuto poi dai cosiddetti Novax, io sono stato abituato a essere maltrattato diciamo dal discorso dominante fin dall'epoca, per cui all'epoca se ricontro le privatizzazioni ti dicevano che eri un comunista, che eri uno stalinista, che eri uno favorevole al potere burocratico e quindi c'era già un po' di denigrazione per cui non ti invitavano più ai convegni, insomma c'era anche allora, non era proprio come durante la pandemia che se provavi a dire che ricontrare il Green Pass ti beccavi e ridiventavi proprio una brutta persona, sì, fucilato, una brutta persona, denigrato, però insomma diciamo che il pensiero unico c'era, l'idea del pensiero unico sulle privatizzazioni nasce e stava molto bene la prima parte, un pochino di più e quindi facciamo partire questa commissione che si chiama Commissione Rodotà che studia le privatizzazioni che propone qualche elemento di controllo giuridico sulle privatizzazioni che avvenivano in modo da far west, nel senso che venivano venduti a prezzo misero con un leverage bancario agli amici degli amici, ci sono stati delle storie orribili da quel punto di vista lì e quindi si va in quella direzione. A un certo punto Berlusconi prova a fare un'operazione draconiana che è quella di mettere a gara per la fine del 2011 tutti i servizi pubblici di interesse economico, quindi sostanzialmente il patrimonio pubblico italiano sarebbe stato privatizzato tutto se non facevamo il referendum, quindi quelli che dicono al referendum non è servito a niente, io rispondo sempre la prossima volta proviamo a non farlo, ecco, perché poi dopo è sempre così, c'è sempre di meglio. Certo che finito il referendum, quella vittoria straordinaria, se fossimo stati in democrazia il Paese avrebbe invitato un tavolo serio per studiare come gestire l'acqua come bene comune, si sarebbero rifatte una serie di regole istituzionali, si sarebbe fatto una cosa diversa, ovvio, ma in democrazia non siamo, quindi il potere funziona, noi siamo riusciti in compenso, mal contati, gli abbiamo portato via, che avevano già la bavetta alla bocca, 250 miliardi di euro non sono stati privatizzati con quel referendum lì e ad oggi non li hanno privatizzati perché stanno riprovandoci di nuovo, ci hanno riprovato varie volte, hanno messo il governo Monti, abbiamo vinto in corte costituzionali, insomma la resistenza non è stata un pezzo di storia nota, ma è stato un pezzo di storia che ha fatto male al potere, ha fatto parecchio male al potere, tant'è che tutto il periodo della campagna referendaria non siamo mai stati invitati una volta in televisione, mai, alla fine, proprio alla fine, esatto, ma il lavoro l'abbiamo fatto in gruppetti più o meno come questo, andando in giro. Questo evento qui è stato anche uno di quegli eventi scatenanti diciamo di una recrudescenza del sistema e quindi poi arriva la lettera di agosto e quindi poi arriva settembre e quindi poi arriva Monti. Sì, la risposta è molto semplice, sì, però ti ripeto l'alternativa qual è? Per paura della realtà, allora io credo che le azioni politiche, quando sono politiche, vadano fatte, cioè io penso che aver mobilitato 26 milioni e mezzo di italiani che in quel momento hanno detto l'acqua non si vende, sia stato un dato culturale importantissimo ed è ancora un dato che esiste adesso, perché guarda che quando abbiamo incominciato quella campagna lì, io mi ricordo benissimo che dicevano noi siamo contro la privatizzazione dell'acqua, quelli dicono, ah cosa vuoi, di nuovo i partiti, di nuovo la burocrazia, di nuovo il cugino scemo del sindaco, questo era l'atteggiamento generale. Adesso non è più così, adesso io credo che sulle privatizzazioni sia cambiato abbastanza il clima culturale e quindi io sono convinto che sia stata una buona cosa farla. Dopodiché non siamo riusciti minimamente, quello è una cosa che speriamo che non risucceda, non siamo riusciti minimamente a farlo diventare una piattaforma politica, nel senso che è stata chiaramente una vittoria importante contro il neoliberismo, l'unica probabilmente che c'è stata, ma la trasformazione successiva diciamo da elemento di freno, il referendum serve per stoppare un'infamia, così come adesso il referendum, perché lo vogliamo fare? Per stoppare un'infamia, che è quella di estrarre soldi pubblici, eccetera, di mandare delle armi e di dire che si può fare la pace vendendo armi, che è una cosa folle. Ok, quindi lo fai per fermare qualche cosa. Dopodiché la pars construens non è parte del referendum, è parte della politica. All'epoca che cosa è successo? L'ha intercettata Beppe Grillo, molto semplicemente. Sì, 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 in un modo molto chiaro, in particolare Beppe Grillo, perché nel 2009 loro hanno incominciato, la prima stella di Beppe Grillo era la stella dell'acqua, quindi c'è stata quell'operazione lì. Poteva andare diversamente, non poteva che andare così, chi lo sa, voglio dire. Uno, di nuovo, fai la cosa perché pensi che sia una buona idea farla e penso che poi l'esito comunque sia, dal punto di vista dell'economia politica del paese sia stato un esito favorevole. Poi è chiaro che la reazione è stata quella, è chiaro che Monti è arrivato perché Berlusconi, che era nei guai per mille altre cose, non era più in grado di, come dire, di... Certo, certo, certo. Cos'è che ha funzionato invece in quel contesto lì? Perché si è vinto in quel momento? Ma guarda, per una serie di fattori. Secondo me intanto si è riusciti a tenere, ad dare un senso che fosse un'operazione di società civile e non di partiti. In un momento in cui c'era un enorme, come dire, scontento rispetto ai partiti, noi all'epoca dicevamo ai partiti, se volete ci potete sostenere, ma non stando dentro il comitato referendario. Cosa che ha avuto un costo, perché Di Pietro presentò un suo quesito oppositivo rispetto al nostro, ce ne fece saltare uno, proprio perché non lo volevamo, ha fatto proprio la parte della strega cattiva, non invitata, e ha presentato un quesito suo, che ottenne meno firme delle nostre, ma ne ottenne comunque a sufficienza, ed era un quesito elisivo del nostro terzo quesito referendario. Quindi la Corte Costituzionale è buon gioco a dire vabbè, questo qui non lo possiamo passare perché l'esito potrebbe essere contraddittorio. E il terzo quesito era importante del nostro pacchetto, perché era quello che avrebbe vietato l'uso della società per azioni, quindi della struttura for profit nel governo di un bene comune. Quindi era un quesito spesso, quindi saltò la possibilità di un cambiamento istituzionale reale. Poi dopo lo facciamo a Napoli, però non è la stessa cosa, se lo fai su base locale non funziona nello stesso modo. Funzionò quello, funzionò che le persone capirono il messaggio, riuscimmo a fare un lavoro di campagna referendaria molto molto serio. Capisco anche il pericolo che si sta a percorrere, secondo me, in quel momento. Beh sai, comunque siamo fatti d'acqua, se metti l'acqua alle multinazionali hai sostanzialmente, è vero che la sovranità non ce l'abbiamo comunque, però se tu puoi morire di sete la popolazione in tre giorni, capito che hai un poterino mica da ridere. Quindi sì, capimmo questo e poi chi lo sa, voglio dire. Non lo so, fu una campagna molto bella, fu molto entusiasmante, iniziò con occasioni, quello fu lavoro politico. Io ho fatto 140 serate, arrivavo lì in treno. Comunque la gente, se vede un signore che arriva con un treno di seconda classe, scende, incontra fisicamente, passa del tempo, magari con 20-30 persone, fa un certo effetto. Se lo vedi in televisione che è sdottore, ne fa un altro. Non so come dire. Quindi secondo me il rapporto reale è nato anche con un gruppo di persone che sono andati in giro, i forum erano molto genuini, insomma abbiamo fatto un lavoro, c'è stato un buon rapporto fra la parte teorica, diciamo, di studio, di elaborazione e la militanza, insomma aveva funzionato bene. Non so se è riproducibile, chi lo sa, vediamo. Poi lascio un attimo la parola gioco. Ti faccio un'ottima domanda. Quindi tu oggi, nel momento in cui proponi un nuovo referendum, diciamo, dei quesiti referendari, lo fai con la speranza o magari anche il dubbio che questa operazione possa andare effettivamente in posto. Cioè senti adesso a livello proprio di tessuto sociale, culturale e delle analogie con quel momento lì? Guarda, è cambiato molto. Altri 12 anni di neoliberismo hanno reso le cose molto più difficili. La pandemia ha massacrato, ha massacrato, il potere è diventato più spregiudicato di come era all'epoca, la Corte Costituzionale non è più terza, il Presidente della Repubblica non è più terzo, quindi ci sono le istituzioni di garanzia nel paese che sono tutte, come dire... Eh, non c'era più, c'era quella prima di Napolitano, chi era? Era Ciampi. No, 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 era, era, chi c'è stato? Era Scalfaro, no? No, Ciampi prima di Napolitano. Eh, vabbè, Ciampi conto, sì. Perché ha fatto 7 anni Napolitano, quindi... No, no, ne fate di più. No, non tutti e due, non interi. Mentre Mattarella se li fa interi, eh, tanto, andiamo sempre allungando. Credo che adesso Mattarella sia stato già di più, diciamo, di Napolitano. E vabbè, comunque sì, insomma, c'erano, secondo me, delle condizioni meno putrefatte di oggi dal punto di vista costituzionale, io penso. E, guarda, io penso che quando uno fa una proposta referendaria al paese debba farla, come sempre, in buona fede. Io credo che ci siano, in buona fede, le condizioni per cui questi quesiti siano... possano passare il vaglio di una corte costituzionale. Non è certo, ma non è mai certo, però si può fare... si può argomentare per bene in quel modo lì. Penso che ci siano delle possibilità aumentate rispetto al fatto che oggi si possono raccogliere le firme online, cosa che prima non si poteva. Quindi noi non dobbiamo raccogliere tutte le firme con i banchini, ma possiamo raccoglierle anche in piattaforma. Cosa che, naturalmente, come sempre, tutte le riforme taglia in due modi. Nel senso che quello che raccogli online è tutta gente che non vedi in strada, che non conosci, quindi la soggettivizzazione politica è molto meno forte. Quindi bisogna riuscire a fare entrambe le cose. Bisogna far finta di non poterle raccogliere online, essere in strada, essere presenti, fare tutta l'organizzazione per bene, sapendo però che il fatto di poter raccogliere online un po' di respiro probabilmente ce lo può dare. Ecco, quindi io penso questo. Io, guarda, ti dico, dopo l'acqua abbiamo fatto una raccolta di firme iniziativa popolare senza la possibilità online nel 2018 ed è stato faticosissimo. Molto più faticoso che i tempi dell'acqua sui beni comuni. Quindi la fatica ci attende. L'età è meno fresca di quella di allora per quanto mi riguarda, ma spero che ci siano altri che si espongono di più di me. E vediamo, insomma. Ok, ok. Sì, ok. Sì, ok.